Famiglie di imprenditori da tre generazioni, eccellenze manifatturiere ma anche umane. Le storie delle 27 aziende di asso centenari nel servizio di Giuseppe De Caro. Dall'inizio degli anni 2000, 27 eccellenze campane che hanno alle spalle almeno un secolo di storia e di proprietà della stessa famiglia da un minimo di tre generazioni sono riunite nell'asso centenari. Da un paio di mesi l'associazione è presieduta da Ugo Cilento che è l'attuale titolare della storica cravatteria e sartoria napoletana fondata nel 1780. C'è una volontà di un cambio di statuto, quindi leveremo quello che è il vincolo regionale e proietteremo l'associazione sul territorio nazionale. Quindi potremmo dare spazio a tutte le realtà che hanno i requisiti di entrare nella nostra famiglia. Poi abbiamo fatti alcuni convegni e alcuni premi come il premio Efesto che è un premio ormai di tradizione campana che premia quello che sono le eccellenze del territorio. Fra i centenari figurano realtà che operano in diversi settori, dalla moda al corallo, dal marmo all'aceto, dall'ottica alla gioielleria fino alla ristorazione. Segreto della longevità è puntare sulla qualità anche umana e della longevità aziendale. Si sta occupando un apposito laboratorio dell'Università di Salerno che studia la tenuta e la crescita delle imprese storiche nei secoli. Aziende ancorate al passato ma calate nel presente con lo sguardo rivolto al futuro.